Il picco di Natale è arrivato prima del previsto. Friuli, Veneto, Liguria e Calabria scivolano verso la zona arancione. Si ipotizzano nuove contromisure, anticipare le terze dosi ad appena quattro mesi dalle seconde, accorciare la durata del Green Pass a cinque mesi, allargare a gennaio a tutti i lavoratori l'obbligo vaccinale come avviene già per sanitari, insegnanti e forze dell'ordine. Sul fronte divieti a Capodanno, per adesso la stretta sulle feste procede città per città. Il nuovo record di 30.000 casi preoccupa. Anche il numero dei decessi sta salendo, 153 in 24 ore. Confrontando i dati di oggi con quelli di un anno fa, si nota comunque l'effetto vaccini. Nonostante il boom di contagi, decessi e terapie intensive sono meno della metà. Continua lo sprint delle terze dosi. Oltre 15 milioni di persone hanno fatto richiamo. In arrivo a gennaio, il nuovo vaccino Nonovax. Oggi riunione tecnica per decidere tempi e modi. Il virus corre soprattutto tra i bambini. Ogni quattro positivi, uno è minorenne. Sotto gli undici anni ci sono ben 50.000 infetti. In proporzione, le fasce d'età più giovani ormai sono quelle maggiormente colpite. I piccoli vaccinati sono appena 108.000, neppure il 3%. I bambini guariti sono un po' di più, 111.000. Farmacie prese d'assalto. Diventano sempre più lunghe le code per fare i tamponi. Così si cercano di mettere in sicurezza i cenoni e le riunioni familiari imminenti. Ecco le immagini appena filmate a Milano. Tutti in fila a fare il test.